Ciao Puppe, come state? Spero che state bene, io sto bene, grazie al Signore. Questa volta ho diviso i prodotti finiti, quelli per l'uso della casa e quelli di beauty, perché c'erano un po' più di beauty e così non volevo fare un video troppo lungo. Allora, è così, chi gli interessa una parte si guarda quella o piuttosto che gli interessa un'altra guarda questa qua. Allora, vi faccio subito vedere come prodotti finiti. Ho finito questi prodotti della L'Oreal e il Bif o il Bif dell'Oreal. Praticamente questo è lo shampoo riparatore, questo qua, dice 2% concentrato riparatore con cheratina per cappelli danneggiati. Io li compro così perché i miei capelli sono ricci, si seccano, eccetera. E questo qua invece, 9% concentrato riparatore con cheratina e un balsamo, questo qua. E sono prodotti che mi funzionano benissimo. Guardate, i miei capelli sono così, si districano benissimo e sono buoni. Sono buoni, è un ottimo rapporto a qualità prezzo perché sapete che i prodotti per i capelli, comunque, se si comprono in profumeria costano un ciline di più. Questi qua invece, devo dire che non mi posso lamentare. Devo dire che mi sono sempre trovata veramente bene con questi prodotti consigliati. Ho finito questo prodotto della Stenum, vi faccio vedere. È un bagno schiuma, un bagno doccia. E questo qua è sempre di quei prodotti che vi dico sempre che reperisco con una mia amica tramite lei. Questo me l'ha regalato lei per il mio compleanno. Ed è buonissimo, è un gel per la doccia idratante. Io mi sono trovata bene. Questi prodotti io li reperisco tramite una venditrice. Non so se vi ricordate che l'anno scorso ho preso un po' di prodotti della Gooby, il marco di Michelle. Mi sono trovata, devo dire, molto bene. In primis ho utilizzato, se vi faccio vedere, questo siero, I'm so shiny, che è quello lì per siero viso illuminante. Questo qua. C'è la pompetta come è quello per le medicine. Si preleva così e poi si mette nelle mani. Ovviamente si tampona sul viso. E' buono, solo che ha qualche ingrediente, nonostante sia naturale, vedete, non vuol dire niente che sia naturale, che magari non ci faccia bene. A me mi è funzionato bene. L'unica cosa che, come lo mettevo, se mi andava vicino agli occhi, sentivo un leggero prurito, un leggero prurito che poi passava dopo pochi secondi. Però, non so, lo sentivo, quindi, non so, vorrei riacquistarlo, ma quello lì ha l'acido ialuronico. Questo qua è 30 ml. Ed è la Gooby. Poi questi prodotti sono naturali. Lo dico per chi è interessato. Ho comprato anche questa crema viso per pelli mature. Anche questa mi è funzionata benissimo, ma con questa non ho avuto problemi. Questi prodotti sono Clean Formula, quindi DermTest, per le pelli sensibili e Vegan. Sono proprio prodotti naturali. E questa qua è quella per la pelle matura. Vediamo quanto ha. Allora, non vedo l'acqua. Ah sì, quantità 50 ml. Ed è l'erogatore così. Basta premere e esce. Poi ho preso questa Bervet On The Go. È una crema, penso che si chiama On The Go perché credo che sia una cremina per tenere nella borsa, ipoteticamente. Poi uno la mette dove vuole. Però è una crema idratante effetto seta. Con olio di cotone, betaina, sweet orange, 50 ml. Anche questa qua. Si apre di questa parte qui. Si preleva. È un prodotto. Volevo comprare il burro cacao, che si chiama altrettanto Besame Mucho. Che volevo provarlo. Poi, avendo un burro cacao ancora in uso, ho detto, non lo prendo, altrimenti, sapete, quando si prende qualcosa di nuovo, dopo si utilizza tutto insieme e non si finisce mai niente. Allora, il mio mood adesso è finire quello che io compro. O comunque, anche se compro, non apro finché non finisco quello. Anche se la tentazione è tanta. Quando ce l'hai lì, lo vuoi provare subito. Poi devo parlarvi di questa mousse. È buonissima. La cosa incredibile è che dura tantissimo. Io penso mi abbia durato due mesi. Perché l'ho finita da poco, dall'anno scorso. Quindi, c'è veramente. 8,2% degli ingredienti sono d'origine naturale. E ha l'erogatore così. Ha anche un tappo trasparente che io ho tolto. Ed è questa qua. Veramente, questa cosa qua dicevo, ma quando finisce? Quando finisce più? Per quel dura tantissimo. Quindi, anche se costa un pochino di più delle altre, però veramente vi durerà tanto. Io questi prodotti li prendo sempre. Cioè, sempre. È la prima volta che li ho preso. Però, tutto quello che prendo, io cerco di adocchiarlo. Lo metto nel carrello. Mi scrivo la newsletter. Quando mi mandano le offerte. Te vado a vedere. E questi erano il 50% di sconto. C'è sempre. Magari il 50% proprio con i saldi. Però, durante l'anno, comunque, tutti questi marchi. Tutti questi prodotti. Se non siamo bisognosi di un prodotto all'istante. Magari è quello che io faccio. Non ve lo consiglio perché non sono in grado di consigliare a nessuno. Però, quello che faccio io è aspettare per prendere. Per esempio, quando so che mi sta per finire. Se vedo che è in offerta, lo compro così. Poi ce l'ho pronto per la prossima. Altrimenti, tampono con altri. Tipo, con una crema in al supermercato. Che, mentre che, poi, arriva il prodotto che voglio. Acquistare. Che mi piace. E lo acquisto in offerta. Così ho fatto questi prodotti. Io ogni tanto guardo. Perché, tutte le volte, lei ha una linea. Anche per la casa. Devo dire che ha la linea per la casa. Ha la linea per il corpo. Creme. Roba tipo... Del voristeria. Dico io. Non so se è il termine giusto. Tipo... Per... Per del drenaggio. Per le gambe pesanti. C'ha veramente una linea... C'ha quasi di tutto, devo dire. Io mi sono trovata bene. Io mi sono trovata bene con questi prodotti. Quindi... Ho finito questo bagno doccia. Della Narciso Rodriguez. Perché questa era una confessione del profumo. Crema. Che la sto per finire anche lei. E questo... Non lo utilizzavo mai. Ce l'avevo lì. Poi ho detto... Dove metto i prodotti per la doccia. E così l'utilizzo. E di questo profumo... De questa linea. Nel Narciso Rodriguez. Ho finito. Della Boteca Verde. Questa crema. E questa è la vitamina C. Mandarino più vitamina C. Questa crema. E questo 3 in 1 della Boteca Verde. Questa linea è anche Ecovio. Il 97% degli ingredienti sono di origine naturale. È vegano. È clean. È per pelli sensibili. Va bene. E il 55% della plastica è reciclato. E questo prodotto al tappino. Si apre. C'è l'erogatore. Si preme. E si utilizza così. Io ho preso anche. Che sto utilizzando adesso che non ho finito. Come si chiama. Il gel per pulire il viso. E praticamente come vi dicevo. Ho comprato prima questi prodotti. Poi quelli della Guvi. Allora ho finito di iniziare a finire quelli della Guvi. Adesso sto utilizzando questi. La crema è finita. Preso anche le ampolle. Che erano pochissime. Veramente. Non lo riprendo più. Perché sono veramente poche. Bisogna prenderne tante. E costano molto cari. Anche questa linea è cara. Anche questa acquistata in offerta. L'ho vista di nuovo l'altro giorno. Che era in offerta. Se vi interessa questa tipologia di prodotto. Alla Boteca Verde li potete trovare in offerta. E la Nivea. Ho finito. Come vi dicevo. Per tamponare. Io utilizzo sempre questa gremina della Nivea. E' favolosa. Perché costa pochissimo. L'ha reperito al supermercato. Io la prendo al mercato. Ed è crema giorno nutriente. Super idratante. E io devo dire che. Quando. Mentre aspetto. Che. Per comprare quella che voglio io. Del male che voglio. Io utilizzo sempre questa. E mi trovo benissimo. E ho utilizzato anche questa crema colpo idratante. Vuol dire. Che li ho rivalutati. I prodotti della Nivea. Nel senso che le creme. Tante anni fa le utilizzavo. Erano pesante. Veramente. Non. Come dire. Non mi piaceva. La texture. Della crema. Perché non mi piace. Né. Che sia pesante. Ma neanche. Che sia troppo liquida. Una via di mezzo. Questa lo è. Adesso. Questa nuova formula. Le formule nuove. Sono così. E se riesco. E le vedo. Non mi dispiace prenderle. Poi. È diventato. Da quando è entrato a casa nostra. Questo qua. È diventato. Lo prendo sempre. Perché. Mi piace che sta in piedi. Che sta in piedi. È un cilindro. Praticamente. Un dentifricio. Della colgate. Ha l'erogatore qui. Si preme qui. E il prodotto esce da qui. E devo dire che. Ci troviamo molto bene. Con questo. Con questa tipologia di dentifrici. Poi. Ho questa crema. Che ha l'algan. L'olio d'algan. È una crema ricca. È una crema per massaggi. Olio d'algan. Olio di algan. Crema ricca. Massaggio corpo. Con pur olio d'algan. Da coltivazioni biologiche. Ho anche la. Il bagno doccia. Che lo sto utilizzando. In questo momento. Quasi già. È quasi finito. Questo qua. Me l'ha regalata mia zia. È grandissima. È una crema per massaggio. Buonissima. Buonissima. Non so se lei la presta in profumeria. Se la ritrovo. E ho la possibilità. Me la riprendo. Perché devo dire. Ah sì. È dell'affitto relax. Lavorato. Quindi sì. È in profumeria. Perché ho già visto questo marchio. Anche per i capelli. È buonissima. E l'abbiamo utilizzato. Sia per massaggi. Perché. Magari. Mi fa male qua. Mi fa male là. Io poi l'ho utilizzato tutti i giorni. Come crema giorno. Perché non avevo più crema giorno. E quindi detto. Cioè. Mi sembrava troppo. Per lasciarla lì. Solo per i massaggi. Anche perché con pochino. Già. Funzionava bene. Allora ho detto. Per lasciarla lì. E come crema. Solo per massaggio. Che magari poi scade. Viene odorante. Perché poi quando le cose sono un po' più. Così. Che hanno tanto tempo. E gli cambia proprio il profumo. E ho detto. La utilizzo così. E così l'ho utilizzata. Questa qua. È stato un regalo. Che mi è stato fatto. E. L'ho utilizzata. E. Mi sono trovata veramente bene. Non so se la ritrovo. Magari preferisco. Il tubetto. Se ci fosse mai. Perché. Così. Mi dispiace. Che quando la crema. Poi in mano. Che la devo chiudere. Si attacca tutta. Qua. Infatti è tutta lucida. Perché ha la crema. E. Quindi. Una crema. Veramente valida. Ragazze. Con questo è tutto. Io. Spero che il video. Vi sia stato. Utile. Più che altro. Che ci siano dei prodotti. E. Potevamo. O che avete utilizzato. E possiamo condividere. Le opinioni. Scrivetele qua sotto. Per chi viene a vedere questo video. E. E se concordate con me. Ovviamente. Perché è un po' soggettivo. Anche la questione. Dei gusti. Dei profumi. Delle testure. E queste cose qua. E. Se vi è piaciuto il video. Non dimenticate di lasciarmi là. Di iscrivervi al canale. E di commentare. Se vi va. Io vi mando un bacione. Saluto. E ci vediamo alla prossima. Adios.